A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store! Ordina adesso, il domani è tutto a casa tua! Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori! Bene affezionati di BR Store, innamorati del folletto, oggi vediamo come sostituire il portasacchetto, ovvero l'unita filtro, ad un folletto 117. Allora, stiamo parlando di un folletto che ha circa 40-45 anni, un folletto abbastanza vecchio, che comunque ancora resiste al tempo. Abbiamo ancora gran parte della rigambista e quindi ancora potete tranquillamente utilizzarlo ancora per diversi anni. Allora, innanzitutto, per sostituire l'unita filtro, sganciamo per prima cosa la sacca dall'apposito gancio. Fatto questo, premiamo il tasto e lo sganciamo. Nel frattempo, possiamo recuperare il sacchetto e il bocchettone. Allora, mettiamo da parte subito l'unita filtro vecchia e prendiamo la nuova. La sostituiremo con una versione compatibile, che comunque è tranquillamente utilizzabile al posto dell'originale, che ormai non esiste più. Allora, la sacca ovviamente ha sempre il gancio sopra e il tasto sotto, la slitta come era una volta. Non è compresa il bocchettone, quindi dovete recuperare il vecchio bocchettone. Controllate che sia tutto a posto, che la valvola sia corretta e comunque non sia troppo secca. Nel caso è possibile trovarla sul nostro storro. Riavvitiamo il bidone per bere, rialloggiamo il sacchetto recuperato, incastriamo il bocchettone. Quindi dobbiamo fare semplicemente un po' di forza, nulla di che. E ora facciamo scorrere tutta quanta la slitta verso il basso. Questa parte qui è un po' noiosa, quindi è probabile che dovete farlo diverse volte. Fate in maniera tale che tutta quanta la cucitura vada a finire all'interno della slitta. Ok. Vedete, solo un po' di pazienza, un po' di attenzione, nulla di così complicato. Fatto questo, riagganciate il tutto fino a farlo arrivare a battuta. Fatto questo, abbiamo sostituito lui da filtro. Non dimenticate di rialloggiare il fermo. In questa maniera si tiene abbastanza dritto, altrimenti tende a scendere. Nel caso in cui questo pezzo qui si sia rotto, non disperate. Basterà semplicemente attaccare la sacca con una fascetta. Stringetela per bene in maniera tale che non scivola sopra e sotto. In questa maniera è come se aveste il vecchio fermo. Abbiamo sostituito la sacca ad un polletto 117. Vi ricordo che è possibile utilizzare questo tipo di sacca anche sul modello precedente, che è 116, con un polletto che ha in circa 50 anni. Trovate la sacca all'unità filtro compatibile per questi due modelli, quindi 116 e 117, vi ricordate sul nostro sito www.beardstore.com con il codice K0078. www.beardstore.com con il codice K0078. Tele ном swelli Trovate il cazzo Grazie a tutti.